Ciao a tutti, siamo su un autobus in mezzo al traffico di Calcutta, parli un italiano per i miei amici. I'm saying hello everybody, we are in the traffic, in the middle of the traffic in Calcutta, in a bus full of people, in un autobus strazeppo di gente, il traffico non potete rendervi consapevole sia, ci dovrebbe mancare 20 minuti alla stazione, finalmente si torna a casa. Loro sono simpaticissime compagnie di viaggio, Sneha, Ticta, Coyal e Jody, e tutti i fidanzati di Jody, sono tre giorni che la prendiamo per il culo, un pomeriggio in realtà. Va bene, dai un salutone a tutti, ciao ciao!